25 anni dall'alluvione che colpì il Piemonte nel 94. Per ricordare la tragedia che costò la vita a 70 persone causando 2.226 sfollati, il Consiglio regionale del Piemonte ha convocato una seduta straordinaria al Centro Congressi dell'Unione Industriale. Dopo 25 anni in Regione Piemonte si è fatto tanto, purtroppo gli eventi alluvionali negli ultimi anni si sono succeduti costantemente. Sicuramente possiamo fare una prevenzione per evitare che dei danni, soprattutto delle vite umane, si perdano sul nostro Piemonte. La seduta si è aperta con la proiezione di un filmato RAI su quei drammatici giorni, con l'esondazione del Po, del Tanaro e degli affluenti e con la lettura dei nomi delle vittime da parte della giornalista Gian Mario Ricciardi. Presente alla seduta straordinaria anche il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Dopo 25 anni abbiamo un Piemonte più sicuro, con grandi invasi che tengono nelle opere spondali, ma con un problema che rimane costante, che sono i piccoli torrenti, i RII. Dobbiamo permettere ai nostri sindaci di far pulire i loro fiumi senza rischiare ogni giorno un esposto o una denuncia e lo possiamo fare soltanto con un vademecum che la Regione sta predisponendo, che io andrò a far vidimare dal Ministero dell'Ambiente. Ad aprire il dibattito, gli interventi dei consiglieri Paolo De Marchi, Lega, Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia, Domenico Ravetti e Maurizio Marello, Partito Democratico, Ivano Martinetti, Movimento 5 Stelle e degli assessori regionali Roberto Rosso e Luigi Icardi, in ricordo di quei tragici giorni, ma anche con uno sguardo rivolto al futuro per fare in modo che eventi del genere non accadano più. Testimonianze e riflessioni sono arrivate dalle tante autorità e istituzioni che hanno vissuto in prima persona il dramma dell'alluvione del 94, i sindaci dei comuni più colpiti, assessori e dirigenti regionali in carica in quei drammatici giorni, comunità montane, sindacati, oltre naturalmente all'arma dei carabinieri, i vigili del fuoco, l'esercito, i volontari boschivi, i geologi. Grande ruolo lo ebbe naturalmente anche la protezione civile, molto cambiata in 25 anni. Nel 94 la protezione civile non era a questi livelli organizzativi. Il Piemonte da quell'alluvione ha tratto un insegnamento e da lì il sistema di protezione civile regionale ha fatto dei passi a gigante, sempre meglio prevenire, ma comunque là dove dobbiamo intervenire ce la facciamo. A chiudere i lavori l'intervento dell'assessore alle opere pubbliche e difesa del suolo Marco Gabusi, che ha ricordato la necessità di sviluppare un percorso condiviso da tutte le intelligenze a disposizione, compreso il Consiglio regionale, per far fronte alle emergenze e dare una prospettiva nuova al Piemonte.